video ripresa con wiko view 2 pro esiste anche la modalità grande angolare 120 gradi sulle foto distorce un po sul video non è possibile applicarla durante la registrazione a posteriori vediamo un po come si comporta della nostra macchinetta ok andiamo all'esterno ok rientriamo che c'è già caldo e direi che va bene così